Ciao a tutti da Officina Fotografica, da Elisa Gelosi e Daniele Simoni. Perché abbiamo deciso di fare questo video? Perché Elisa? Beh, innanzitutto per ringraziarvi perché siete sempre di più a seguirci e quindi questa cosa ci fa sempre sempre piacere. Tantissimi, esatto. Anche dall'America Latina, dall'Argentina, quindi salutiamo tutti i nostri follower in tutto il mondo. Ci stanno seguendo. Ma c'è una ragione in più oggi, effettivamente. Oggi, questo mese, festeggiamo i due anni di questa nostra collaboratrice molto fidata, diciamo, due anni spettacolari che abbiamo fatto con Top Driver, con Behind the Sins, con Officina Caffè, con tutte le nostre produzioni che abbiamo fatte una mezz'ora fa, quindi siamo negli studios di Officina qui. E che dire, grazie, grazie, grazie Elisa. Grazie a te Dani. Sì, diciamo due anni fa, ad aprile del 2021, abbiamo cominciato a Del Cito, sì, con Marco Beltrani che salutiamo. Salutiamo Marco e sicuramente ci starà guardando. Ecco, diciamo poi che c'è anche un'altra ragione, diciamo che la prossima puntata sarà la cinquantesima, quindi tante tante tante, grazie a voi che ce l'avete permesso perché sennò saremmo fermati alla seconda. No, faremo una puntata, dai, speciale, un po' più particolare, ci proviamo, stiamo studiando. Ha già deciso Elisa, è il nuovo. No, adesso è da decidere, abbiamo delle opzioni e stiamo valutando. Benissimo, allora valutiamole e diamo appuntamento a tutti, quindi, alla prossima puntata, la cinquantesima. Che dire? Che dire? Baci? Baci assortivi! Baci assortivi!